... Ultimo giorno di Consiglio regionale della nonna legislatura e anche tempo di un bilancio. Ma sì, sono stati cinque anni difficili, sia dalla posizione di partenza, dalla sanità commissariata, i 4 miliardi di euro di debiti, poi la tragedia del terremoto. Abbiamo attraversato questi cinque anni anche in un momento di grande congiuntura economica nazionale e mondiale, l'Abruzzo è in condizioni migliori di quello che abbiamo trovato, abbiamo fatto tante cose, riduzione dei costi della politica e anche riduzione di tanti carrozzoni che in quel momento ci voleva il navegatore satellitare per orientarsi tutti gli enti collegati alla regione. Ma principalmente sono stati anni difficili perché amministrare in questo momento con cambio di norme in corso, basti pensare alle normative sui servizi pubblici, prima promulgate e poi cambiate, cambiate dalla Corte Costituzionale, abbiamo avuto veramente anni di grande impegno. Oggi è l'ultimo consiglio. Credo che anche oggi andremo poi a trovare delle soluzioni sul piano fiaunistico, altre problematiche del piano di Edemaniale, cose che oggi sono all'ordine del giorno, ma principalmente credo che civilmente chiunque abbia avuto attività in questo, dalla maggioranza all'opposizione, si deve salutare per iniziare, anche se già iniziate per la verità, una campagna elettorale. Siamo in campagna elettorale, lei è ancora una volta candidato con Fratelli d'Italia, Alleanza Nazionale. Entriamo però nello spirito della campagna elettorale, quali saranno le parole chiave di questo ultimo mese? Sicuramente un monito, un messaggio, credo che bisogna fare una campagna elettorale per parlare dei propri programmi cittadini e non per il lancio degli stracci a cui qualcuno magari si vuole predisporre, perché credo che i cittadini siano stufi di litigate o di critiche, vogliono sapere quello che è stato fatto e quello che si deve ancora fare, ma anche discutere non soltanto della regione, ma discutere dell'Europa, perché noi votiamo l'Election Day, sapete, in quello stesso giorno ci saranno elezioni comunali, elezioni regionali, elezioni europee, quindi i cittadini per essere invogliati e anche per avere la netta conoscenza di quello che si va a scegliere hanno bisogno di una politica che non urli, ma una politica che si confronti. E voi nei confronti dell'Europa avete delle idee molto nette e chiare? Dobbiamo dirlo, anche perché la gente è confusa, voi sapete che qui in Italia in questo momento siamo in una fase di governo delle danchintese, dove un alleato del centrodestra comunque ha il governo con Renzi e la stessa Forza Italia ha trovato un accordo, Berlusconi e Renzi, su alcune problematiche, legge elettorale e quant'altro. Fratelli d'Italia è nettamente all'opposizione del governo Renzi, ha una visione dell'Europa da rivedere, bisogna rivedere il discorso dell'Euro, i trattati con l'Europa, ma anche tante cose, basta ricordare l'Europa qualche anno fa negò le radici cristiane dell'Europa, quindi voglio dire, ad oggi abbiamo una tecnocrazia al comando dell'Europa, noi vogliamo dare dei messaggi forti, che messaggi che non debbano assolutamente coincidere con derive xenofobe e altro, ma il discorso di rappresentanza del territorio e di rispetto di quelle che sono le nostre prerogative nazionali credo che siano non solo nostra idea da proporre per le europee, in questi giorni poi lo ricordo ci sarà domani Alemanno ad Avezzano, ci sarà sempre Alemanno dopo domani mattina a Pescara, ci sarà la visita della Menon in Abruzzo, quindi a testimonianza che Fratelli d'Italia in Abruzzo è collegata al partito a livello nazionale in maniera priena, in quanto i propri leader vengono spesso e torneranno spesso in Abruzzo. Sarà una grande battaglia elettorale, vinca il migliore ma principalmente vinca il rispetto anche dall'avversario. Che peso avrà nella campagna elettorale la questione morale? Ricordiamo tutti il recente scandalo politico-giudiziario di Rimborsopoli. Sicuramente non fa bene, però so anche che in questa prima fase di indagine i colleghi sia di giunta che di centrodestra che sono indagati hanno dimostrato chiaramente la loro estranetà e quindi tutti quanti aspettiamo dei provvedimenti che magari portino, se non totalmente, a tante archiviazioni delle posizioni. Però non è possibile assolutamente paragonare in questi giorni uno scivolone, qualcosa che probabilmente ci danneggia a livello di immagine, a problematiche di giudiziari che invece sono oggetto tantissimo anche di dibattito in questi giorni. Lo sapete la candidatura d'Ambrosio, le problematiche del Presidente D'Alfonso, credo che in questo momento vadano separate le due posizioni e il dibattito anche sui giornali, sulla protesta della sinistra radicale che non vuole alcuni candidati inseriti nella lista D'Alfonso sia quello che è il vero dibattito sulla problematica giudiziaria. Paradossalmente dalla parte opposta condivide. Ma guardate, io credo che la politica si debbano vincere i programmi così, però oggettivamente le problematiche oggetti di discussione sono totte gli occhi di tutti. Io spero che gli abruzzesi votano la sobrietà, votano anche la politica del dire no, proprio ieri un editorialista parlava della volontà e della necessità della politica di dire no. Chi vi parla lo sapete, ha detto no a tante cose, tant'è che non è inquisito minimamente in tutte le indagini giudiziarie, che sono passate in Abruzzo, però credo che oltre ai politici che devono imparare a dire no, e io l'ho fatto quasi sempre quando non ero d'accordo e quando le cose non erano utili per la comunità, però lo dobbiamo dire a chiare note, anche l'elettorato deve imparare a rispettare i politici che dicono no e non ai politici che promettono i sogni, perché spesso dal sogno si passa all'onirico.